Come già successe per la lingua latina Perché la lingua italiana è sempre più sostituita dalla lingua inglese? Commento Perché, come già successe per la lingua latina, la lingua italiana subisce la legge per cui prevale la lingua dei popoli, delle comunità fisiche che detengono il potere nel mondo. Grazie